E' positiva sicuramente perché significa che ci possono essere ancora degli spazi per risolvere questa vicenda. Tutto rinviato al 4 di maggio, per la Cantarelli, storica azienda Tessil Retina in amministrazione straordinaria da oltre due anni, c'è ancora speranza. La prima udienza per decidere sul fallimento si è conclusa con un rinvio. Altri giorni, non molti per la verità, entro i quali il Mise dovrà quindi procedere all'assegnazione. In caso contrario, il destino della Cantarelli appare segnato. Il giudice si è dimostrato particolarmente sensibile in ordine alle problematiche che noi come organizzazioni sindacali abbiamo rappresentato, cioè problematiche occupazionali. Le persone che stanno dietro a questa vicenda che è non solo giuridica e debbo dire che la sensibilità si è manifestata anche nel ricevere le organizzazioni sindacali nel corso dell'udienza. Il giudice lo ha detto chiaramente, la legge lascia un sentiero estremamente stretto da percorrere perché i tempi della procedura di vendita sono finiti. Il Ministero ha rappresentato al magistrato l'esigenza di ulteriori approfondimenti e il magistrato ha concesso questo rinvio, opportunamente lasciandoci una speranza su una conclusione positiva. Certo rimane la frustrazione per il fatto che dopo due anni e mezzo di procedura siamo a sfruttare gli ultimi secondi di questa partita per cercare di risolverla.